Un mercatino per rilanciare un quartiere finito nel degrado. Dopo anni di attesa, polemiche, soldi, gettati alle ortiche, finalmente stamane è stato inaugurato il mercatino a Via Ciani. Trasferiti in uno spazio di 1600 metri quadrati, anche gli ambulanti di Via Ciccarelli, 18 le postazioni disponibili. I residenti hanno accolto con soddisfazione la novità. La speranza è che il mercatino serve a ridare vita a un rione da sempre alle peste con il degrado, poco attenzionato dall'ente di piazza del popolo. Certo, è una cosa positiva, anzi ci fa tanto piacere perché noi abitiamo qui sul rione. Ci fa piacere perché siamo vicini e possiamo soffrire. Ci sono tanti condadini, vengono da Grotta Minarda, come ci diceva la signora. Lo salite presto di buono stamattina? Insalata per la dieta, le patate e i fagiolini. Voi come avete accolto invece questa iniziativa? Per voi è un riferimento, è comodo, utile? Sì, 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 per me è molto, anche se noi trattavamo Piazza Libertà e Rione Mazzini per il biologico. Adesso siamo qui, quindi è più vicino, è più comodo, ringraziamo tutto, il comune, quelli che hanno fatto questa iniziativa. Bellissima, e ci voleva. Come sta andando? Primo giorno, dobbiamo ancora vedere, però ringraziamo il cielo, sì, si parte. Quali i suoi prodotti avete portato da Mirabella? I nostri prodotti, è un periodo un po' diciamo un cambio stagione, quindi abbiamo un po' di poco roba, abbiamo l'insalata, la scarola, pisselli, fave, poi più in là arriveranno fagiolini, melanzane, ma io opero anche a Via Lanzillo, opero a Trivalda, quindi... Siete una veterana. Sono conosciuta, sì. Ottima, secondo me è una bella iniziativa, spero che il Rione risponde a questa nostra volontà di continuare questa, diciamo, questa esperienza, questo nuovo mercato. Da dove venite voi? Da Fontana Rosa.